Adesso, cari amici e cari amiche, ho il piacere di presentarvi questo soggetto di puro sangue arabo. Si chiama Imperium, lo accogliamo con un grande applauso. Nasce da Exalt per Malena. Exalt è figlio di campione mondiale e padre del campione del mondo dello scorso anno, Bats, al Jassimia. Exalt è stato in leasing lo scorso anno da Dubai Arabian Stud e adesso è in leasing nell'allevamento Hanaya Stud. Chiaramente, cari amici, da qui non avevo guardato credendo che fosse direttamente il protagonista della presentazione che vi stavo leggendo. Quindi, chiedo scusa, ovviamente è una fattrice che si sta un attimino riscaldando, ma proprio dietro vedo pronto quello che sarà il protagonista delle informazioni che vi ho accennato in questo momento. Ed eccolo! Eccoci qua, cari amici, quindi l'applauso grande che può arrivare adesso in maniera ufficiale per Imperium. Imperium, l'avevo detto prima, che nasce da Exalt per Malena. Exalt, figlio di campione mondiale e padre del campione del mondo dello scorso anno, Bats, al Jassimia. Come dicevo, Exalt è stato in leasing lo scorso anno da Dubai Arabian Stud e adesso è in leasing nell'allevamento Hanaya Stud. La madre Malena è stata campionessa europea nel 2019. Imperium è di proprietà di Aljamal Stud in Qatar. E' disponibile per la stagione di Monta 2023 da Mimbo a Cardo Arabians, che è anche uno dei nostri partners e sponsor. E potete così apprezzarne la magnificenza, la bellezza delle linee. Ancora una volta, la grande opportunità di poter vedere così splendidi soggetti. E qui, una bellissima immagine che vi invito a fotografare. Adesso ci prepariamo per quella che sarà la categoria dopo questo bellissimo momento. Vi invito a fare ancora un applauso, un applauso grande al nostro Imperium e anche alla fattrice che vedete in campo insieme a lui. È stato un bellissimo momento per apprendere informazioni e come vi ricordo potete rivolgervi a Mimbo a Cardo per la monta. Di conseguenza andiamo a prepararci per quella che sarà la categoria riservata agli stalloni di 4, 5, 6 anni. E nel frattempo chiaramente che andiamo a prepararci per la prossima categoria. Vi rileggo con piacere tutte le informazioni relative a questo bellissimo stallone. Stallone che nasce da Exalt per Malena. Ovviamente è un figlio d'arte, lo possiamo dire così. Grande genealogia. Un figlio Exalt di campione mondiale. E padre del campione del mondo dello scorso anno, Paz Al-Jassimia. L'avete sentito, Exalt è stato in leasing lo scorso anno da Dubai Arabian Stud e adesso è in leasing nell'allevamento Hananiya Stud. Ma non solo un grande padre, anche una grande madre. La madre Malena che è stata campionessa europea nel 2019. Quindi qui ci sono appunto tanti elementi di prestigio, una grande genealogia, tanti risultati importanti. Di conseguenza elementi di vanto che possono essere riconosciuti a questo bellissimo stallone. Imperium è di proprietà di Al-Jamal Stud in Qatar ed è disponibile per la stagione di Monta 2023. Come più volte ho detto, potete rivolgervi a Mimmo Accardo Arabians. Come più volte ho detto, potete rivolgervi a Mimmo Accardo Arabian Stud.